Ieri sera abbiamo avuto la malsana idea di fare un festino di venerdì e noi adesso sveglia per andare a scuola. Oggi solo il trucco, il fondodinta e il correttore ci possono salvare. Mi sono appena resa conto di aver fatto un orecchino. Molto bene! Il bello è che loro hanno deciso di entrare in seconda per saltare l'interrogazione di arte, io invece prendo coraggio e vado, mi espongo al pericolo. E poi dopo scuola andiamo a vedere la partita di calcio dei nostri compagni di classe, c'è un torneo di scuola. E poi io dopo devo uscire e devo andare al centro e tornerò a casa tipo, non lo so stanotte. Ultimo step, capelli. Io ieri non ho fatto in tempo a lavarli, quindi credo che l'unica soluzione sia una coda. Ma io ho due peli in testa, non mi verrà mai. Cambio programma, non viene, ho troppo pochi capelli, quindi lei mi sta facendo i boccogli al volo. Se ci riesco. Lei mi fa lo zaino. Sare.